Come è mia abitudine, non so poi magari sbaglierò, io cerco quando si parla di un singolo evento come è la battaglia di Guadalajara, in qualche modo di trarne una sorta di morale. È una di quelle battaglie di Guadalajara che non soltanto è facilmente modellizzabile, ma che per certi versi rappresenta un po' un paradigma della storia militare, perché nella battaglia di Guadalajara accadono una serie di cose che sono assolutamente tipiche, mi verrebbe da dire che sono quasi fisiologiche nell'andamento di una campagna militare. Dall'altra parte, come hai benissimo detto, è una di quelle battaglie che creano mito, come Caporetto, come Vittorio Veneto, come le Termopili. Il mito di Guadalajara è un mito che si perpetua fino ai giorni nostri, tanto è vero che il libro più famoso in Italia su Guadalajara si intitola La prima sconfitta del fascismo. Allora, tanto per cominciare a Guadalajara non è stato sconfitto il fascismo, ma è stato sconfitto un reparto militare che si chiamava CTV. Oltretutto è stato sconfitto, cercherò di dimostrarlo, certamente non solo per colpa sua, ma poi è stato sconfitto per delle ragioni che esulano completamente da quell'idea di entusiasmo che doveva animare in qualche modo le brigate internazionali e che invece non doveva animare minimamente gli italiani, perché gli italiani venivano mandati alla guerra di Spagna, come se fossero delle pecore mandate al macello, spesso senza neppure sapere cosa andavano a fare. Insomma, il solito mito negativo italiano che in realtà non ha ragion d'essere, perché nella guerra civile spagnola, come in tutte le guerre, ci sono stati rovesci, ci sono state vittorie, le stesse truppe che hanno subito la relativa sconfitta oltretutto di Guadalajara sono quelle che hanno preso Santander, che è stata una delle vittorie fondamentali e che prima avevano preso Malaga, che è stata, come dire, per molti versi, la battaglia che ha dato più energia psicologica alle forze nazionali spagnole. Per cui, insomma, cerchiamo di collocare Guadalajara nel giusto contesto. È una battaglia che avviene all'inizio della guerra civile per quello che riguarda il CTV, è una battaglia influenzata proprio dalla recentissima, è di febbraio la presa di Malaga, ed è una battaglia però che non ha delle conseguenze catastrofiche, non è un accaporetto, non porta gli italiani a retrocedere al Piave, non li riporta nemmeno alle linee di partenza. Quando uno legge i libri, soprattutto i libri spagnoli, e questa è una cosa strana, su Guadalajara, dicono che la controoffensiva Lister, che è quella, come vedremo, che giunge più avanti nel respingere le truppe italiane sulle posizioni di partenza, in un unico punto arriva alla linea di partenza degli italiani e della divisione de Soria, che era la divisione nazionale che combatteva a nord delle truppe italiane. In tutto il resto gli italiani comunque avevano conquistato dei territori. Tutto questo invece viene trasformato in una specie di disastro, talmente in una specie di disastro, che se voi vi prendete la briga, io l'ho fatto, di andare a vedere su Wikipedia che cosa viene detto per la battaglia di Guadalajara, le perdite italiane che compaiono, sapete che Wikipedia ha una specie di specchietto, quello che gli inglesi chiamano aftermath, ha una specie di specchietto laterale dove c'è scritto chi erano i comandanti, quali erano i reparti, e alla fine quante sono state le perdite, sono decuplicate rispetto al reale. Cioè gli italiani a Guadalajara in pratica avrebbero perso più uomini di quanti ne hanno perso in tutta la guerra civile. Il che è assolutamente ridicolo. Naturalmente se uno prova a entrare in contatto con l'amministratore che ha curato questo lemma su Wikipedia, questo neanche ti risponde. Per cui è un sistema informativo bizzarro. Wikipedia ci sta, è una cosa che è fatta da volontari e spesso questi volontari sono inquinati ideologicamente almeno quanto, come dire, il dibattito storiografico su Guadalajara, però il problema è che poi anche nella storiografia, nella saggistica più seria, spesso e volentieri Guadalajara non è vista per quello che è, cioè per uno scontro militare che andrebbe analizzato, io cercherò di farlo nei suoi prodromi, nel suo andamento e nella sua conclusione. Ma è come qualcosa di, una sorta di dogma Guadalajara è messo lì ed è probabilmente anche, comprensibilmente, in una guerra che i repubblicani e le sinistre europee hanno perso, è dire sì abbiamo perso però a Guadalajara ve ne abbiamo date una sacca. Ecco, secondo me un po' c'è questo elemento. Guadalajara paradossalmente avrebbe dovuto invece essere un segnale molto positivo per gli italiani, avrebbe dovuto fare suonare agli italiani un campanello d'allarme, perché io partirei proprio da qui prima di partire diciamo con le diapositive che addirittura iniziano con l'alsamento del terzio di Franco e quindi un po' indietro, ma io voglio andare ancora un po' più indietro. L'esercito italiano vive un periodo di euforia comprensibile dopo la vittoria nella prima guerra mondiale. La prima sortita militare degli italiani dopo la prima guerra mondiale è la guerra d'Etiopia, guerra d'Etiopia che è tra l'altro di poco antecedente ai fatti di cui stiamo parlando. La guerra d'Etiopia è una guerra che costa agli italiani uno sforzo logistico enorme, perché trasportare i militari in Etiopia, combattere in quelle condizioni una guerra contro un nemico, quando abbiamo parlato di Adua abbiamo sottolineato che l'esercito etiopico era tutt'altro che una banda di cialtroni, era un esercito numeroso e organizzato. Insomma è stato un enorme sforzo che si è concluso con una vittoria e quindi gli italiani erano da una parte esauriti da un punto di vista militare per una guerra logorante come la guerra d'Etiopia che per quanto breve è stata soprattutto molto costosa e dall'altra parte però erano in qualche modo euforici perché era una guerra che era stata presentata esattamente come verrà presentato il CTV, era una guerra che era stata presentata come una guerra largamente volontaria, in cui le divisioni camice nere avevano avuto un ruolo importante e in cui il volontarismo, le canzoni avevano insomma in qualche modo erano state sottolineate enormemente dal regime perché il regime lì si stava giocando la faccia. In più aggiungo la guerra d'Etiopia è la rivincita di una sconfitta, il tema della guerra dell'Etiopia era adua e vendicata, per cui tutta un'atmosfera anche psicologica e non soltanto strettamente militare particolare. Quando gli italiani vanno in Spagna, quando ci va diciamo il primo contingente, quello che formerà il CTV, che sono quattro divisioni di cui tre camice nere e una divisione di linea, la Littorio, una divisione di infanteria, quando vanno lì questi italiani la maggior parte di loro sono dei volontari della milizia volontaria di sicurezza nazionale. Quindi sono forse militarmente poco agguerriti, i loro comandanti sono tutti o reduci di guerra, eroi di guerra spesso, o reduci addirittura della guerra d'Etiopia, ma i soldati, cioè le camice nere hanno un addestramento militare diciamo poco realistico, poco formato sul campo, però hanno un grosso entusiasmo, quindi cominciamo a sfatare la prima idea, cioè che la maggior parte dei volontari italiani volontari non erano. Certo, nell'Allittorio molti, e poi come dire, sottolineerò questo aspetto perché è un aspetto interessante della cosa, molti ci andavano perché venivano pagati di più e uno dice, ah sì mercenari, vi faccio presente che è esattamente quello che succede nei reparti italiani che ancora adesso operano all'estero, che ci sia un soprasoldo se tu vai a combattere all'estero è la cosa più normale del mondo. Allora noi eravamo un paese povero, uno che stava facendo il servizio militare e quindi risultava essere in qualche modo un peso economico per la sua famiglia, andando a combattere in Spagna sotto Bergonzoli e prendeva dei soldi che erano significativi per la sua vita, quindi io non mi sento di giudicare come degli sporchi mercenari, soldati del CTV che non erano animati dalla pura fede nella lotta contro il mostro comunista, francamente anzi non me ne importa nulla. Dicevo, c'era questo, questo sentimento che però, questo entusiasmo che non era ancora calato ma non era suffragato da elementi forti, ci si illudeva un po' da questo punto di vista e c'era naturalmente il mito di Vittorio Veneto, insomma ne abbiamo parlato già altre volte. Che cosa succede però? Succede che un contingente del CTV che si è appena formato, il CTV nasce nel dicembre del 1936, prima c'era lo vedremo, l'MMIS, cioè i militari italiani in Spagna ma erano semplicemente una struttura organizzativa per fare arrivare i soldati del CTV. Conquistano Malaga, circa 5 mila soldati italiani partecipano alla conquista di Malaga, che è una grande vittoria, Malaga è una città importante, è una città grande, naturalmente i nazionalisti spagnoli cavalcano questa vittoria e la trasformano in una cosa, la guerra di Spagna è tutta fatta di propaganda politica, è una guerra ideologica, solo che la vittoria di Malaga è una vittoria contro delle brigate repubblicane del tutto disorganizzate, male armate, che sono ancora meno addestrate degli italiani, è una vittoria militarmente insignificante, ma è una vittoria che crea negli italiani l'idea di poter vincere facile. Quella, lo vedremo dopo, quella che si chiama victory disease, cioè la sindrome della vittoria. Paradossalmente quando si vince troppo facile, è così anche nel calcio, io i miei amici lo sanno di calcio, non capisco, ahimè è un tubo, a parte la fede cieca nella dea, ma anche nel calcio, se tu sottovaluti l'avversario è la volta che vieni palmato, è così. Per cui quando gli italiani, quando il CTV attaccherà Guadalajara in condizioni di evidente superiorità, Roatta, che non è uno dei miei generali prediletti, si lascia andare, come vedremo, delle affermazioni insomma un po' tracotanti della serie, domani saremo a Guadalajara e fra una settimana siamo a Madrid. Non è andata precisamente così. Per cui la prima cosa su cui vi invito questa volta a riflettere è che a volte essere depressi per delle sconfitte e pregresse, ne parlavamo a proposito della prima guerra mondiale quando dicevamo che l'Issa e Custoza rappresentavano un pregresso che in qualche modo faceva un po' aver paura ai comandanti italiani nella prima guerra mondiale che ci fosse un re der azione, quando poi il re der azione arriva si liberano in qualche modo di questo peso che avevano e dicono ah vabbè è successo quello che ci aspettavamo adesso però ci riprendiamo. Qua è il contrario, qua è la victory disease, cioè il fatto che questo reparto che pensa di combattere contro quattro straccioni e questi quattro straccioni invece come vedremo avevano dietro l'imponente aiuto dell'Unione Sovietica, in realtà commettono degli errori di eccessiva fiducia, ma non è questo che causa la sconfitta di Guadalajara, anche se gli italiani avessero avuto al loro comando una specie di polenta prudente alla Montgomery e se fossero andati avanti con i piedi di piombo sarebbe successa la stessa cosa, perché a Guadalajara in qualche modo come vedremo si sommano una serie di fattori di carattere militare che portano inevitabilmente a questa sconfitta. Ma partiamo con ordine, allora come voi sapete a un certo punto la cosa viene presentata come una sorta di levata di scudi cattolica e monarchica contro il governo socialista che stava devastando la Spagna, non è solo questo, questo governo socialista a un certo punto taglia gli stipendi degli ufficiali ed è questa la goccia che fa traboccare il vano. C'è un alzamento, cioè c'è una insurrezione che avviene in tutta la Spagna, solo che la maggior parte delle truppe insorte, chiamiamole delle truppe ribelli, non si trovano in Spagna ma si trovano in Marocco, fanno parte del terzio e sono agli ordini di Francisco Franco, cioè quello che diventerà poi il caudio. Ci sono anche sul territorio europeo soldati fedeli alla causa franchista, però la maggior parte di questi sono guardie civili, volontari, insomma diciamo delle truppe operative, il grosso e il meglio si trova in Marocco. E quando c'è l'alzamento che qua viene rappresentato come vedete in maniera quasi grottesca, viene rappresentato come una sorta di crociata e vi faccio vedere, ecco questo è un quadro allegorico di Francisco Franco fatto un po' alla maniera di Velázquez in cui lui con la spada e l'armatura difende la causa cattolica e monarchica e nazionale. Era uno che era anche molto furbo e si è visto poi allo scoppio della seconda guerra mondiale nella gestione dei suoi interessi, ma il suo problema era questo, che le sue truppe si trovavano qua e lui doveva portarle di là e per portarle di là questi 30.000 uomini che erano a sua disposizione, quindi gli effettivi di una robusta divisione di linea, li poteva portare di là soltanto in un modo, chiedendo aiuto agli italiani e ai tedeschi. Italiani e tedeschi che almeno all'inizio sono piuttosto prudenti e titubanti, fatto sì è comunque che Mussolini non soltanto invia delle navi da trasporto per poter spostare il terzio di Franco sul territorio, sul piccolo lembo di territorio ancora in mano ai franchisti, chiamiamoli così per comodità sul lato europeo, ma deve mandare degli aerei che scortino queste navi contro l'aviazione repubblicana che non soltanto si è presa la maggior parte dei pochi aerei di cui la Spagna disponeva sul territorio nazionale, ma che comincia a venire rifornita via mare dall'Unione Sovietica che manda un cospicuo numero di aerei da caccia, non ha dei grossi aerei da bombardamento, la Repubblica, ma ha degli aerei da caccia piuttosto efficienti. In particolar modo la ditta Policarpov con la guerra di Spagna fa dei grossi affari perché fabbrica sia il Chato, che è un biplano un po' simile al CR32 italiano, sia soprattutto il Rata che invece è un caccia piuttosto moderno, piuttosto veloce, monoplano, ben armato che darà del filo da torcere all'aviazione italiana in Spagna che prenderà il nome di aviazione legionaria. Mussolini quindi si imbarca in questa impresa e partecipa almeno all'inizio alle operazioni sostanzialmente fornendo un supporto, un supporto che è quello delle navi da trasporto e degli aerei che devono scortare le navi da trasporto che sono fondamentalmente questi, la spedizione Bonomi. Già il 27 luglio, quindi dieci giorni dopo l'alzamento, Mussolini manda degli SM81 che erano quegli aerei multiruolo, trasporto e bombardamento che avevano sostanzialmente rappresentato il nervo dell'aviazione d'attacco italiana nella guerra d'Etiopia, cioè per capirci erano gli aerei che pilotavano Catelli durante la guerra d'Etiopia. La spedizione Bonomi funge da supporto a queste prime operazioni mentre la marina militare italiana agisce fondamentalmente in maniera pirata, cioè le navi italiane ufficialmente non partecipano alle operazioni ma molti sommergibili italiani colpiscono navi spagnole e trasporti, soprattutto russi, che stanno andando, danneggiano il Cervantes che è un incrociatore spagnolo che fino al 38 rimarrà in bacino, ma di fatto non risultano, così come non risultano gli incrociatori leggeri che vanno a bombardare le coste spagnole dove ci sono i repubblicani. Quindi la nostra flotta lasciamola da parte in questo, mentre l'aviazione ha un ruolo importante per tutta la guerra. Come vedete alla fine del dicembre 1936, quindi più o meno contemporaneamente alla creazione del CTV per quel che riguarda le truppe di terra, nasce l'aviazione legionaria. L'aviazione legionaria, qua vedete dei CR-32, che fungono da scorta caccia ai bombardieri che sono gli SM-81. Poi arriveranno anche dei bombardieri molto più efficaci da un punto di vista militare che sono i celebri sparvieri SM-79 che poi avranno, diciamo, la loro gloria definitiva come siluranti nel Mediterraneo col gruppo Buscaglia e col gruppo Fagioli. L'aviazione legionaria è superiore all'aviazione repubblicana, ma come vedremo nella battaglia di Guadalara sarà l'aviazione repubblicana ad avere il pallino e questo non per colpa dei piloti e non per colpa dei mezzi che vengono messi in campo. Qua semplicemente per ricordare se qualcuno si vuole documentare sull'apporto della regia marina, che come vi ho detto è un apporto molto marginale, c'è questo libro di Rapalino che è un libro dignitosissimo che parla di questo. Allora, insieme al CTV chi è che c'è a combattere? Allora io scrivo qui, l'elemento più marcatamente fascista dell'esercito nazionale era rappresentato dai falangisti. La falange era fondamentalmente il movimento rivoluzionario fascista di José Antonio Primo de Rivera, figlio del dittatore Primo de Rivera ma personaggio del tutto diverso. Mentre il padre era un esempio di conservazione, José Antonio era invece un esempio di rinnovamento. Purtroppo viene preso e fucilato all'inizio della guerra e rimane però nella falange, diciamo questa componente che in qualche modo si riconosce nelle divisioni camicianere italiane. Tanto è vero che dopo la battaglia di Guadalajara, quando queste divisioni verranno ristrette e riunite, le tre divisioni camicianere diventeranno due, poi si trasformeranno in qualcosa d'altro, le flecias, cioè le frecce che erano dei reparti misti italo-spagnoli in cui la componente ideologica era molto forte. Poi naturalmente c'erano i soldati regolari, l'elemento nazionale, l'esercito nazionale che faceva capo a Francisco Franco e che è quello che direttamente combatterà appunto con la divisione de Soria che era comandata dal generale Moscardò, reduce dall'assedio dell'alcasar de Segovia quando era colonnello e che vede in Franco appunto il suo elemento come dire dominante. E poi c'erano i recetes, i recetes che erano cattolici monarchici carlisti, in Spagna c'era una tradizione carlista che risale al 1830 e che ha dei forti legami poi con i moti settari italiani e così via. Questi combattenti che combattono nella battaglia di Guadalajara e che si riconoscono per il caratteristico basco sono appunto i carlisti che qua vedete in una fotografia dell'epoca, vedete hanno questi copricapi un po' particolari e sono l'elemento diciamo più spiccatamente cattolico, più legato alla tradizione dei re cattolici di Spagna, sono anche dei tradizionalisti e si rivelano anche dei bravi soldati per la verità. E poi ci sono gli italiani, all'inizio Mussolini nel settembre del 1936 manda in Spagna il generale Roatta, il generale Roatta ha l'incarico di fare da osservatore e da organizzare l'arrivo delle truppe italiane in Spagna. Roatta non è un generale qualsiasi, è il comandante del SIM, cioè del servizio di informazioni militare che erano i servizi segreti militari dell'epoca. Quindi Roatta non è un operativo, è piuttosto, come posso dire, un tessitore di tele, tanto è vero che dopo la sconfitta di Guadalajara verrà sostituito, mi dispiace dirlo, verrà sostituito da Bastico, che è un generale talmente efficiente che Rommel lo chiamava Bombastico, e a sua volta Bastico verrà poi sostituito da Berti, che invece era un ottimo generale. Dicevo, Roatta arriva lì e comincia non soltanto a operare come organizzatore, noi oggi diremo come consigliere militare, ma comincia anche a trattare politicamente, è uno che ha un, come posso dire, un portafogli d'azione abbastanza ampio. Fatto si è che Roatta evidentemente informa Mussolini del fatto che in Spagna c'è il modo di ricavare gloria a basso prezzo per gli italiani e a dicembre si forma appunto il CTV, il Comando Truppe Volontarie. CTV che poi diventerà nella mistica fascista, insomma nel simbolismo fascista dell'anteguerra, diventerà insomma una specie di forza rivoluzionaria d'assalto in cui le camicie nere hanno un ruolo eminente, fondamentale. Se voi guardate quest'immagine propagandistica dove c'è la camicia nera che lancia la bomba a mano, ebbene quest'immagine ha una proiezione all'indietro e una proiezione in avanti. Da un punto di vista mitopoietico, ti faccio il verso a questo punto, da una parte ricorda la tradizione iconografica dell'arditismo della prima guerra mondiale, ma dall'altra parte ricorda molto da vicino, durante la guerra, la propaganda per esempio dei giovani fascisti a Jarrabub. Cioè il soldato italiano viene raffigurato così, viene raffigurato con il fez, con la camicia nera, con la bomba a mano, con il pugnale, cioè con le armi dell'arditismo e i simboli del fascismo. E questo l'abbiamo detto già altre volte e questo serve, non è affatto casuale, serve a sottolineare la continuità fra i valori del fascismo e i valori della prima guerra mondiale. Quindi oggi la storiografia, chiamiamola di sinistra, scusate io mi esprimo un po' rozzamente ma cerco di farmi capire, è una definizione per dire in breve. La storiografia di sinistra tende a considerare il periodo fascista una sorta di iato all'interno della storia d'Italia. Risorgimento, prima guerra mondiale, buco nero, resistenza, repubblica. Il fascismo rappresenta uno iato. Viceversa il fascismo, l'abbiamo già detto altre volte, cerca di rappresentare se stesso come un atto di continuità e questo genere di iconografia della guerra di Spagna è perfettamente in linea con questo. Adesso vi mostro Roatta che ha tutto tranne che l'aspetto di un condottiero e che è quello, appunto come vi dicevo, che ha allestito in qualche modo il Citi. Nel frattempo cosa succede? Succede che all'estero l'intervento italiano, prima paventato e poi realizzato, viene visto come ha un'ingerenza esterna in una questione che dovrebbe essere solo spagnola, quindi si fa finta che l'Unione Sovietica non stia facendo proprio niente e dall'altra parte si lancia un avvertimento agli spagnoli dicendo guardate che gli italiani vengono lì perché vi vogliono in qualche modo colonizzare. Quindi c'è uno scontro, prima ancora che militare, c'è uno scontro di propaganda e questa guerra, la guerra civile spagnola, è in qualche modo, mi viene in mente quello che viene scritto a proposito della guerra civile europea, è in qualche modo una sorta di prodromo di quella che sarà la seconda guerra mondiale. La seconda guerra mondiale sarà esattamente la stessa cosa da un punto di vista strettamente militare, cioè sarà una guerra combattuta dai soldati ma combattuta anche dalle propagande, una guerra in cui mentre la prima guerra mondiale era una guerra tra opposti nazionalismi, qua abbiamo dei blocchi ideologici che si fanno alla guerra e in piccolo il primo luogo dove si vede un laboratorio di questo tipo è proprio la guerra di Spagna. Quindi Mussolini a un certo punto stabilisce di partecipare alla guerra di Spagna in maniera attiva, manderà entro il marzo del 37, cioè il periodo della battaglia di Guadalajara, manderà circa 50.000 uomini in Spagna e con Franco avrà sempre un atteggiamento particolarmente amichevole, ma è un'amicizia ambigua. Mussolini che è un buon conoscitore di uomini e uno che ha un fiuto contadino, non si fida di Franco, non si fida di Franco ma è inevitabile che lo aiuti perché Franco rappresenta un frammento di quel nuovo ordine europeo per cui Mussolini politicamente sta lavorando. Vi ricordo che nel 1938 ci sarà l'accordo di Monaco, ma fino a quel momento che segnerà un po' un riavvicinamento alla Francia dell'Italia fascista, ma fino a quel momento Mussolini è isolato e l'unico alleato che si ritrova, alleato che pure non si gode fino in fondo, è la Germania nazista. È appena finita la guerra d'Etiopia, l'Italia è stata sanzionata, l'Italia è isolata dalla società delle nazioni e quindi Mussolini non si può permettere di far finta di niente con Franco, ma al tempo stesso il personaggio non lo convince fino in fondo. E arriviamo alla conquista di Malaga che è il battesimo del fuoco per il CTV, la conquista di Malaga avviene in un settore del fronte che è completamente diverso da quello dove avverrà la battaglia di Guadalara, qua ci troviamo nel sud della Spagna e l'attacco che avviene da nord verso sud è un attacco concentrico, cioè Malaga è un obiettivo che sostanzialmente è circondato quindi non ha possibilità di rinforzi se non dal mare, dal mare non ci si può avvicinare perché il cielo e il mare sono controllati dagli italiani, per conseguenza Malaga cade molto rapidamente. Ripeto, vengono utilizzati soltanto 5.000 soldati italiani, ma naturalmente il regime suona la gran cassa della presa di Malaga come se fosse una grande vittoria militare e questo crea quel victory disease di cui abbiamo parlato. Qua vedete dei soldati italiani che si affacciano sul colle che domina Malaga e guardano la città. Si fanno l'idea che le cose possono andare come in Etiopia e le armi che usano sono le stesse armi che hanno usato in Etiopia, che qua però non si riveleranno del tutto all'altezza. Perché Guadalajara? Allora, erano già stati fatti tre tentativi da parte dell'esercito nazionale che occupava il territorio a nord di Madrid, diciamo l'area di Saragozza e la carretera nazionale che unisce ancora Saragozza a Madrid, avevano già fatto tre tentativi di sfondare il fronte repubblicano per puntare Madrid. I comandanti spagnoli domandano a Franco una quarta offensiva. Questa volta però, questa quarta offensiva dovrebbe passare non direttamente da nord dove è schierato il grosso delle forze nazionali, ma dovrebbe passare da Guadalajara che in questa cartina vi dà subito l'idea del perché abbiano combattuto a Guadalajara. Questa è la carretera nazionale e Guadalajara si trova sulla strada di Madrid, dista circa una sessantina di chilometri da Madrid e si trova alla fine di una vasta zona boscosa e da Guadalajara poi praticamente la via di Madrid è aperta. Inoltre a Guadalajara, vicino a Guadalajara passano diversi fiumi, per cui Guadalajara potrebbe essere un punto di difesa repubblicano ma non lo è. Quando l'attacco viene lanciato in realtà Guadalajara è poco difesa. A difenderla c'è soltanto una divisione repubblicana di circa 11.000 uomini, lo vedremo poi nell'ordine di battaglia, poco armati e con pochi mezzi. Quindi i comandanti spagnoli chiedono a Franco un'offensiva su Guadalajara, Franco alla fine dice di sì, siamo alla fine di febbraio, dice di sì e contemporaneamente chiede a Mussolini di utilizzare il CTV. Il problema è che come vedremo il CTV viene utilizzato, mentre le truppe nazionali rimangono un po' ai margini della battaglia. Io non voglio fare il malizioso, però diciamo che il loro apporto avrebbe potuto essere decisamente maggiore. Questo è l'ordine di battaglia. Due terzi del CTV vengono schierati per la battaglia. Le quattro divisioni immediatamente operative che sono la di Olovuole, le fiamme nere e le penne nere che sono divisioni camicie nere e una divisione di linea della fanteria, la Littorio, che entrerà però come vedremo in battaglia soltanto molto più avanti. Poi ci sono le Banderas che sono dei gruppi di combattimento volontari mobili e poi un notevole parco d'artiglieria che all'inizio è di 51 batterie ma poi andrà crescendo, credo che alla fine arriveremo a circa 80 batterie con 230 pezzi. Su questo poi avremo qualcosa da dire da un punto di vista proprio militare durante la battaglia. E poi ci sono quattro compagnie di carri d'assalto. I carri d'assalto sono i carri veloci, i CV35, sono dei carri da 3 tonnellate che sono effettivamente molto veloci, vanno a più di 40 km all'ora ma sono delle tankette, non sono dei veri carri armati, sono l'equivalente dell'inglese brand carrier, sono dei piccoli carri da 3 tonnellate, cioè calcolate che una jeep della Volvo ne pesa due, ecco avete l'idea della corazzatura di questi carri. E sono armati con due mitragliatrici, non hanno un cannone, hanno solo due uomini in equipaggio, sono molto piccoli e sono poco corazzati. La divisione de Soria, quella di Moscardò invece, conta circa 20.000 uomini, più delle brigate volontarie e due banderas, la banderas Burgos e la bandera Alavà. I repubblicani, questo però, scusate, questo è lo schieramento, l'ordine di battaglia finale. All'inizio hanno soltanto la dodicesima divisione, quella di Lacaie, pensate che ha un parco di artiglierie di 9 mortaie e 13 cannoni. Poi si aggiungeranno l'undicesima divisione di Lister, che sarà quella su cui ruoterà il grosso del contrattacco repubblicano e in particolar modo all'interno dell'undicesima divisione, la brigata d'assalto del campesino, che è l'eroe repubblicano di questa battaglia, e la quattordicesima divisione. Insieme a loro, che avranno un peso, non quel peso determinante che qualcuno già mi ha scritto a proposito della battaglia, ci sono già stati dei commenti su Facebook, sì però i repubblicani avevano i carri T26, che erano enormemente superiori alle tanchette italiane, sì è vero, però non hanno avuto quel peso, diciamo così, definitivo sulla battaglia. Certamente erano, rispetto ai carri italiani, erano delle armi imponenti, erano dei carri da 10,5 tonnellate, avevano un cannone da 45, erano carri sovietici. Insomma, però ripeto, non sono stati così fondamentali. Miaja e Rocco, cioè il comandante di settore e il suo capo di stato maggiore, sono quelli che chiedono a Franco un'altra offensiva su Guadalajara. La chiedono perché anche loro hanno delle informazioni, guardate è una guerra in cui le operazioni di controspionaggio sono veramente ancora a uno stadio primitivo, loro hanno informazioni sul fatto che i repubblicani sono con l'acqua alla gola e dicono vabbè diamogli il colpo di grazia. Poi vedono lo schieramento italiano e dicono vabbè qua andiamo in carrozza, altro che Malaga. E così inizia l'8 marzo del 1937, inizia l'offensiva di Guadalajara. Qua come vedete si trova la divisione di Soria di Moscardò e qua si trova il CTV che avrà come potete notare il grosso dell'offensiva. Vedete qua Bricuega che è diciamo l'obiettivo intermedio fra il punto di partenza e Guadalajara che viene proprio conquistata l'11 di marzo dal CTV. C'è da notare una cosa, non so se si vede, vedete che il comandante del CTV viene indicato come general Mancini. Non è che il CTV avesse cambiato comandante, è che Roatta quando arriva in Spagna e quando ancora l'Italia non deve minimamente far vedere che partecipa alla guerra civile assume prima il nome di comandante colla, anzi coia come lo pronunciano gli spagnoli e poi di generale Mancini. Cioè finge di essere un'altra persona, vale a dire un generale che non è più in servizio effettivo, che si offre in qualche modo per fare l'esperto di guerra. Poi naturalmente quando comanderà il CTV sarà un po' difficile presentarlo come il generale Mancini, ma evidentemente in Spagna non tutti gli storici hanno informazione di prima mano, per cui in questa cartina che è una cartina spagnola viene definito il generale Mancini, sappiate che è il generale Roatta. 8 marzo, alle 7 del mattino gli italiani iniziano il fuoco di distruzione, quello che anche nella prima guerra mondiale precedeva ogni attacco. Il fuoco dei più di 200 cannoni italiani ha un effetto dirompente sulla prima linea repubblicana, tant'è che la prima linea repubblicana in molti punti viene abbandonata dai soldati repubblicani che scappano. Quindi gli italiani all'inizio avanzano nel vuoto fondamentalmente, cioè non si trovano davanti una difesa organizzata, tant'è che vista la buona parata, Roatta fa questa dichiarazione che viene da un suo bollettino, dice domani saremo a Guadalajara, dopo domani Alcalá de Genares che tra l'altro ancora oggi è sede di numerose caserme in Spagna, Alcalá de Genares è l'equivalente di Pisa per l'Italia dove ci sono le caserme dei paracadutisti spagnoli e tra tre giorni sarò a Madrid. Dopo questa affermazione così un po' sconsiderata, vediamo quello che succede. Questo verde è il CTV che avanza, avanza verso Bricuega che sarà quasi il punto di massima avanzata e che almeno il primo giorno non trova di fronte a sé nessun tipo di resistenza organizzata. Gli uomini di Moscardò invece che si trovano a nord ovest rispetto agli italiani avanzano molto più lentamente, conquistano i primi obiettivi che nel piano di battaglia erano stati stabiliti ma poi tendono a fermarsi e ad aspettare gli eventi, cosa che come vedremo con l'evolversi dello scontro creerà non pochi problemi. Qua vedete, in questa cartina che secondo me è più chiara, vedete l'avanzata italiana, il punto di massima avanzata italiana e qua sono le prime due divisioni sono già state sostituite perché esaurite, superano Bricuega e arrivano addirittura a minacciare il nodo stradale su cui i repubblicani avevano stabilito la linea di massima resistenza. Però nel frattempo, come potete vedere, accorrono a tamponare la falla le riserve, vale a dire le divisioni del quarto corpo d'armata che si uniscono, la dodicesima e la quattordicesima divisione si uniscono all'undicesima divisione e prima arginano, secondo quel meccanismo solito che io annoiando la gente ripeto ogni volta, cioè le offensive funzionano sempre come un'onda, partono con un'energia cinetica forte, poi rallentano, arrivano al punto di massima espansione e di solito devono sopportare una controoffensiva, succede esattamente questo. I rinforzi spagnoli, scusate, repubblicani sono piuttosto massicci, questi a un certo punto fermano l'avanzata italiana e poi contrattaccano, però qua manca, su questa cartina manca quello che è l'elemento fondamentale della battaglia, che non risulta dalle cartine topografiche, ma risulterebbe se noi avessimo una cartina meteorologica. La battaglia di Guadalajara avviene in condizioni climaticamente mostruose, perché prima piove a catinelle e poi inizia a nevicare, per cui le condizioni in cui si trovano a muovere gli uomini del CTV sono terribili, non solo perché è terribile avere freddo, essere bagnati, ma perché la mobilità su cui doveva puntare la, diciamo questa, scusate il calambur, la punta di lancia del nostro attacco, svanisce perché le strade diventano un pantano, su cui soltanto i mezzi cingolati si muovono agevolmente. E quando vi dicevo che Guadalajara per molti versi è una battaglia paradigmatica, questo dovrebbe accendere una lampadina in tutti noi e farci pensare a quello che è successo in Ucraina al gruppo d'armate centro di Hitler nell'operazione Barbarossa. Cioè ciò che ha rallentato enormemente una campagna offensiva che stava avendo un successo clamoroso non sono tanto state le azioni di retroguardia dell'armata rossa quanto il fango alto un metro e mezzo dell'Ucraina. Qui le condizioni meteo sono assolutamente avverse a un'operazione di veloce sfondamento, non soltanto, ma c'è un altro elemento molto importante di cui tener conto è legato sempre al fattore meteo. Gli aerei italiani non volano, volano pochissimo e questo non perché non siano in grado di volare con il brutto tempo, certo considerando che sono aerei in cui perfino le radio non funzionavano benissimo e che il CR32 è un aereo a carlinga aperta ma erano così anche gli altri. Il problema sono i campi di atterraggio. I campi di atterraggio nazionali sono stati fatti recentemente un po' in fretta e furia e hanno la pista di decollo e di atterraggio di terra, cioè di fango e quindi non possono essere utilizzati perché gli aerei con il fango rischiano di capottare. Viceversa gli aeroporti repubblicani, vi ricordo che siamo a 40 km adesso circa da Madrid e quindi Madrid è un luogo dove ci sono gli aeroporti perché è la capitale, sono piste in cemento e da lì gli aerei possono decollare e atterrare anche se c'è brutto tempo. E infatti in tutte le memorie, sono numerose, dei greduci del CTV c'è quest'idea di queste masse di aeroplani che arrivano, li spezzonano, li mitragliano, li bombardano, cioè la superiorità aerea e repubblicana. Ogni tanto sporadicamente arriva qualche caccia nazionale, cioè qualche caccia legionario, butta giù qualche aereo repubblicano, ma certamente il dominio dell'aria ce l'ha nei repubblicani. E in una guerra come la guerra moderna il dominio dell'aria è fondamentale. Quindi il primo nemico, il vero nemico che spezza in qualche modo la dinamica dell'offensiva italiana a Guadalara non è tanto la resistenza repubblicana che pure si fa sempre più forte, quanto il problema meteorologico e il problema logistico che è figlio del problema meteorologico, vale a dire i trasporti e il movimento truppe sulle strade che sono infangate e il decollo e l'atterraggio degli aerei dai campi d'atterraggio che sono fangosi. Il 9 di marzo comincia la manovra di contenimento da parte dei repubblicani. Gli aerei, come vi dicevo, hanno un ruolo importante. La sera del 9 arrivano in linea due brigate internazionali e l'undicesima divisione di Lister, che è quel signore col giubbotto e con l'aria intelligente che vedete in questa fotografia. L'undicesima divisione di Lister è una divisione d'assalto, è una divisione particolarmente agguerrita e di combattenti particolarmente tosti. Sarà quella che avrà il ruolo, diciamo, della ruspa che respingerà come una pacchera indietro gli italiani. Gli italiani raggiungono Bricuega e avanzano fino al fiume Tajunia che si trova a soli 26 chilometri da Guadalajara. Poi, scusate, a me mentre lo dico viene un po' da ridere, non perché siano cose di cui ridere, ma perché io sono stato a Guadalajara per tutt'altri motivi insieme a un mio caro amico che si chiama Gabriele Marconi, che credo alcuni di voi conosceranno almeno di nome. E Guadalajara è veramente uno sputo di posto. Cioè, non so, io avevo in mente la battaglia di Guadalajara e quindi Guadalajara me la immaginavo come una città anche monumentale per certi versi. Niente, cioè immaginatevi una battaglia che si svolge in un paesotto che ha una piazza. Tra l'altro abbiamo fatto una figura pessima perché noi venivamo dalla Catalogna e da bravi scemi facevamo quelli inseriti, per cui anche se nessuno dei due parlava una parola di spagnolo, avevamo imparato a dire adeu, che è il adios in Catalogna. Siamo entrati in un bar a bere una birra, uscendo abbiamo detto adeu, cioè è come se a una riunione delle brigate nero-azzurre uno a un certo punto si mettesse a parlare in bresciano. Ecco, c'è l'effetto, è stato più o meno quello. Dicevo, gli italiani arrivano al fiume Tacugna e raggiungono la posizione più avanzata che è questo palassio dei bar, che qua vedete dopo la battaglia e in cui gli italiani mettono una loro base logistica pensando poi di avanzare e che poi invece diventerà un centro di difesa che venderà cara la pelle dopo essere stato accerchiato dai repubblicani. Siamo all'11 di marzo, Nevica, questa è una fotografia in cui si vedono i soldati sotto la neve, purtroppo non si capisce tanto bene, comunque credetemi Nevica, quella che vedete è la carretera nazionale, cioè la strada d'Aragona, in altre pubblicazioni la trovate chiamata strada di Francia, è sempre la stessa strada e sono riusciti a sfondare e hanno raggiunto il punto, diciamo l'11 marzo rappresenta il punto di massima avanzata, quello in cui l'onda a un certo punto arriva in fondo, rallenta e si ferma. Nel frattempo però gli italiani continuano a essere bombardati e mitragliati dall'aviazione repubblicana. Il 12 di marzo lungo la strada che va da Briquega a Guadalajara viene tentato un altro attacco ma questa volta l'Ister con la sua divisione contrattacca violentemente e il primo reparto CTV che va in crisi è la terza divisione camicie nere, le penne nere, i nuvoloni. Da questo momento in poi il pallino della battaglia, lo Schwerpunkt è passato e il pallino della battaglia resta nelle mani dei repubblicani. A questo punto Roatta decide di giocare la carta delle sue riserve e le sue riserve sono soprattutto la quarta divisione Littorio che è una divisione regolare e che tra l'altro è comandata da barba elettrica dal generale Bergonzoli che anche in Africa sarà famoso e che è un generale molto stimato, molto considerato. Solo che la Littorio quando entra in linea subisce quello che quando parlavamo di Caporetto Temporibus abbiamo chiamato il caos logistico. Cioè quando la Littorio entra in linea deve vedersela con gli altri che si stanno ritirando caoticamente. E questo creerà enormi problemi nello spiegamento della Littorio che pure è un ottimo reparto. Qua vedete alcune immagini della battaglia, immagini anche iconografiche. Qua vedete dei soldati italiani che si riparano mentre sta arrivando un carro T-26. E adesso parliamo un istante dell'armamento. La battaglia come vi dicevo ha raggiunto diciamo un punto di stallo prima di parlare della controffensiva repubblicana parliamo dell'armamento. I cannoni, i molti cannoni di cui era dotato il CTV erano quasi tutti cannoni della prima guerra mondiale. Gli obici da 149-13 per esempio erano preda bellica austriaca. Questo è l'eterno cannone da 75A, sono quelli che ci sono alla Rocca in Città Alta, che poveretto è un cannone, un vero veterano che si è fatto tutte le guerre italiane dal 1915 in poi. Un pezzo molto versatile, certamente non molto adatto come pezzo controcarro. Sia il 75 che il 65A erano dei cannoni molto affidabili, molto pratici, ma non avevano una grande velocità del proiettile e per cui questo non li rendeva indicati come pezzi controcarro. Era invece indicato e come come pezzo controcarro, stiamo parlando dei carri armati della guerra civile spagnola, non certo dei carri da 35 tonnellate della campagna d'Africa, era il 47-32, il caro vecchio elefantino. La Littorio, che entra in linea, vi ricordo adesso, ha in dotazione 30-47-32 per i quali è il battesimo del fuoco, cioè vengono mandati per una prova pratica sul campo di battaglia, è una specie di prova generale. Il cannone è stato licenziato nel 1935, per cui è un modello di cannone nuovo di pacca. È un cannone che ha un'ottima velocità, ma è molto piccolo come calibro per le esigenze della seconda guerra mondiale, ripeto contro i T-26 va benissimo e soprattutto, nonostante che sia piccolo, è un cannone poco ingombrante, è molto macchinoso per la messa in batteria. Mentre il 75 lo sganciavi dal traino e in 10 secondi lo puntavi, il 47-32 necessitava di una serie di operazioni per essere messo in batteria. Quindi ha delle qualità nette, ma anche dei problemini. Questo che vedete è il CV-35, è la tankette di cui vi parlavo, qui è nella versione con le mitragliatrici, ma la versione che era più temuta nella guerra di Spagna era questa, cioè la versione armata di lanciafiamme. Vedete che si trascina dietro un traino? Questo traino è un serbatoio di petrolio napalm da 800 litri, che serviva ad alimentare il lanciafiamme che vedete qua. È stato utilizzato prima della battaglia di Guadalara con ottimi risultati ed era tecnologicamente una novità, era una cosa, solo gli inglesi avevano qualcosa di similare. Però, voglio dire, guardate le condizioni della strada, questa è la carretera nazionale, guardate, è solo fango. Nelle condizioni di combattimento della battaglia di Guadalara non è stato molto utilizzato. E questo è l'avversario con cui si sono dovuti misurare gli artiglieri e i carristi italiani. È il carro T26 russo nella versione con cannone da 45 mm. La prima versione aveva un cannone da 36 mm, la seconda da 37 mm, questo è un pezzo da 45 mm. E questi che vedete qui sono tutti i carri che sono stati, fino al Verdeja, che è entrato in linea nel 1938, sono i carri che sono stati utilizzati nel corso della guerra di Spagna. Come vedete c'è l'obsoleto carro Renault francese della prima guerra mondiale, c'è il T26, c'è il carro tedesco, anche questo da 8 tonnellate, ma se lo misurate con la tanchetta italiana vi rendete conto che gli italiani erano quelli che hanno messo in linea i carri più deboli, diciamo meno competitivi. Il comandante del reparto carri si chiama Pavlov, gli spagnoli lo chiamano Pavlov e viene dall'Unione Sovietica e viene applicato direttamente alla battaglia. Quindi non è vero quello che alcuni storici dicono, cioè che l'Unione Sovietica nella guerra di Spagna ha soltanto un ruolo diciamo di fornitura, che fornisce il know-how per mezzo di specialisti e i mezzi, no? Fornisce anche dei comandanti, i carri nella battaglia di Guadalajara li comanda Pavlov. Qua vedete la seconda fase della battaglia, cioè la controoffensiva repubblicana. Vi prego di notare che la controoffensiva repubblicana va solo contro le forze del CTO. Qua c'è il punto di massima avanzata, qua la divisione Lister attacca, ma come vedete non attaccano le forze della divisione di Soria, che ha raggiunto i suoi obiettivi il primo giorno, li vedete qui, ma lì si sono fermati. E quindi i repubblicani possono concentrare tutto il loro sforzo contro il CTV. CTV che entra in crisi, entra in crisi non soltanto per le ragioni che vi ho detto, ma entra in crisi anche perché c'è lo sbandamento delle prime due divisioni camicia nere che erano state protagoniste dell'avanzata dell'8 marzo, che in qualche modo impattano con le altre due divisioni, cioè la Littorio e la terza divisione camicia nere, creando un'enorme confusione. In questa enorme confusione i repubblicani avanzano con l'appoggio dall'alto dell'aviazione che come abbiamo detto è dominante e con l'appoggio dal basso dei carri di Pavlov. Ecco qua lo vedete ancora meglio, qua vedete i territori che sono stati, questo è il punto di massima avanzata, qua c'è Biruquega, qua davanti c'è il punto di massima avanzata, questo è il territorio che viene recuperato durante la controffensiva. Come vedete il CTV non viene ributtato sulle posizioni di partenza, viene rimandato indietro, quindi non è affatto vero che la seconda fase della battaglia sia stato ributtare gli italiani sulle posizioni di partenza. È stato da parte dei repubblicani il conquistare dei territori che permettessero di raggiungere una linea difensiva ragionevole, perché quando gli italiani sono arrivati qua, lo ripeto, eravamo sulla linea di massima resistenza, cioè per capirci sulla linea alba del Colmoskin nel 1917, no 1918 cosa ho detto, idiota. E qua di nuovo la vedete, vedete l'avanzata italiana, dopo questo rimane per cui con calma ve lo guardate, e la controffensiva, vedete questa linea dritta, questa è la Lister che punta solo ed esclusivamente sulle forze del CTV. Quindi il CTV all'inizio ha una grande superiorità in mezzi e in uomini, ma alla fine non ce l'ha più, perché tutti quanti i repubblicani che sono arrivati sul campo di battaglia hanno impattato contro gli italiani. Qua ci sono, qua è molto piccolo, scusate lo devo avvicinarmi un attimino, va beh qua sostanzialmente è la riconquista repubblicana del Palazzo dei Barra e queste qua sono forze nazionali che stanno attraversando la piazza di Briquega ritirandosi. Siamo il 14 di marzo, il Palazzo dei Barra viene riconquistato, dal Palazzo dei Barra era rimasta una batteria italiana, è uno degli episodi che poi verranno mitopoietici della battaglia. Questo reparto di artiglieria, come dire, in linea con la tradizione artiglieresca del morire sul pezzo, colpisce di infilata le forze della 12esima brigata internazionale e li trattiene per un bel po' di tempo. Alla fine intorno a questo Palazzo dei Barra c'è un grosso muro di cinta, i repubblicani arrivano al muro di cinta, saltano dentro, baionette e tutto il resto, alla fine gli italiani si arrendono e comincia a esserci per il CTV un certo tributo in termini di prigionieri e di materiali. Alla fine Guadalajara sarà soprattutto una sconfitta in termini di perdita di materiali, non tanto di perdita di uomini, di materiali come vedremo ne perdono tanti, non solo, ma i repubblicani su questa cosa ci costruiranno un discreto cinema, andranno in giro con i camion italiani presi dopo la battaglia con scritto sopra, questo è un camion italiano, lo vedremo, ed è stato preso dal brigata d'assalto. La cosa continua, qua sono gruppi di prigionieri e qua vedete invece c'è il mitico campesino, il mitico campesino che comanda diciamo la punta di diamante della divisione Lister che è questa brigata d'assalto, The Shock come dicono loro, che è quella che espugna Briwega che arriva al palazio dei Barra, insomma il campesino nonostante il nome che vuol dire contadino è tutt'altro che un fesso e si comporta, insomma è un ottimo comandante, quindi rispetto a Malaga è cambiato tutto, a Malaga erano quattro gatti scalcinati e non sapevano minimamente combattere, qua invece ci troviamo di fronte se non altro dei comandanti molto abili, non è molto abile come comandante ma probabilmente si faceva rispettare quello che c'è alla sua destra che invece è il commissario politico della brigata d'assalto. Questa cosa del commissario politico nasce nella guerra di Spagna, anzi veramente è ragionata nella rivoluzione d'ottobre, ma nella guerra di Spagna e l'Europa occidentale comincia a conoscere i commissari politici che saranno l'anima nera della resistenza rossa, nelle brigate Garibaldi che saranno costruite, la brigata italiana internazionale che combatte a Guadalajara si chiama brigata Garibaldi e le brigate garibaldine comuniste e socialiste che combattono durante la guerra civile prendono il nome proprio dalla brigata Garibaldi di Spagna e avranno tutte il loro bravo commissario politico che è quello che per capirci decide a diritto di vita o di morte sui prigionieri, per cui le nefandezze di cui si sono macchiate alcune brigate Garibaldi non dipendevano probabilmente tanto dai comandanti militari quanto da questi commissari politici che erano degli strumenti fondamentalmente sovietici. E qua vediamo degli altri comandanti, qua vediamo il comandante dell'undicesima che sta osservando gli italiani con un binocolo, no veramente si tratta di un periscopio di artiglieria, italiani che nel frattempo come vedete si devono schierare in campo aperto, cioè il problema grosso è che quando c'è la controoffensiva gli italiani hanno pochissimi punti, centri di fuoco fortificati, non ne hanno perché non hanno avuto il tempo di farli e perché la battaglia si è evoluta in una maniera inaspettata e quindi come vedete scavano delle buche a fil di terra e si difendono in queste buche a fil di terra, il che è il modo peggiore per contrastare un attacco fatto da truppe e da carri. Il carro T26 non è un carro da crociera, è un carro da fanteria per cui funziona esattamente con quel sistema, avanza lentamente con i soldati che si riparano dietro e che poi fanno l'ultimo assalto. Se sono contrastati da un tiro contro carro efficace non possono farlo, ma se il tiro contro carro non c'è e dal cielo non c'è qualcuno che li bombarda perché purtroppo come vi dicevo i campi d'atterraggio sono impraticabili, allora un'offensiva di carri ha effetti devastanti, a meno che nelle buche ci siano i soldati di El Alamein che contrassaltavano questo tipo di assalto con le bombe Molotov, le bombe a mano, i fucili, però non siamo ancora a quello. Vi ho già detto che il CTV non era un reparto che poteva godere dell'addestramento della Folgore, della Brescia, della Trieste, era un reparto piuttosto abborracciato. E dall'altra parte come vi dicevo si trovavano gente, guardate che faccetta rassicurante che ha il campesino, il campesino che comandava la brigata mobile d'assalto è quello che libera Tricueque che è il punto di massima avanzata, quello del Palazzo dei Barra e Bricuega che è il paese, stiamo parlando sempre di quattro case, ma che è il paese più importante conquistato dagli italiani durante l'offensiva. Il 15 di marzo riconquistano Tricueque e gli italiani nel frattempo stanno facendo con l'operazione di avvicendamento che vi dicevo, che però si risolve in un caos generale, cioè l'avvicendamento delle truppe che erano esauste, mette in linea delle truppe che non sono esauste ma che sono completamente scompaginate dal contrattacco e dal chiasso. Tanto è vero che il 15 di marzo, cioè teoricamente 5 giorni prima che la battaglia finisca davvero, Roatta chiede a Franco di sospendere l'offensiva, cioè fondamentalmente la battaglia dovrebbe finire lì. Invece qua vedete le rovine di una casa in cui gli italiani si sono fatti, vedete la mitagliatrice Fiat in primo piano? Non so se si vede, si si vede, gli italiani che si sono fatti ammazzare e vedete il carro armato repubblicano fuori. Cominciano, comincia ad agire anche la macchina della propaganda, i fotografi vanno sul campo di battaglia a fotografare gli italiani morti, gli italiani prigionieri, come vedremo il materiale che è stato catturato agli italiani, insomma Guadalara che non è ancora finita come battaglia campale si sta già trasformando nel mito di Guadalara, nella leggenda di Guadalara. I tempi della propaganda stanno diventando sempre più rapidi evidentemente. E qua andiamo avanti, sono sempre fotografie di propaganda che rappresentano Palacio dei Barra, tutti i luoghi insomma che vi ho detto e che sono dei luoghi insignificanti geograficamente ma che sono il punto chiave della battaglia e del rovesciamento. Qua vedete sono due soldati del CTV che devono camminare sulla carattera nazionale, uno porta la Fiat 14 in spalla, l'altro porta il treppiede, cioè motorizzazione zero. Non perché non ci fossero i mezzi, è perché erano tutti quanti i reparti, sia le tre divisioni camice nere, sia la divisione littorio, erano reparti non come si diceva ironicamente in Africa, motorizzabili, erano semi motorizzati, cioè avevano un parco automezzi, non voglio dire che coprisse tutte le esigenze, ma che poteva funzionare a condizione che le strade fossero praticabili, invece le strade erano impraticabili e quindi come sempre la buffa va a piedi ed ecco che anche qua la buffa va a piedi. Dall'altra parte nel momento di maggiore crisi, qua vedete questi sono dei civili repubblicani, la popolazione viene mandata davanti a Guadalajara a cercare di costruire delle trincee, insomma una sorta di folksturm che doveva appunto parare, possibilmente creare una sorta di linea di difesa campale che però non viene intaccata. Anche qui vedete delle foto, chiamiamole foto ricordo dopo i combattimenti e qui vedete invece la carretera nazionale percorsa da mezzi cingolati, la didascalia spagnola spiega proprio questo, che data la natura del terreno se tu non avevi un mezzo cingolato o semi cingolato non saresti stato in grado di muoverti. Questo taglia completamente fuori le motrici d'artiglieria italiana, i camion italiani che potevano trasportare i soldati e le autoblindo italiane che erano una delle armi migliori delle forze corazzate italiane e che anche nel deserto poi nel 40-41 faranno vedere il loro valore ma che qui non riescono a muovere nonostante che possiedano la trazione integrale. Di nuovo immagine della battaglia, questa rende di più l'idea del clima, questi sono dei repubblicani che alla fine della battaglia fanno un posto di blocco sulla carretera nazionale. Dall'atteggiamento che hanno capite benissimo che ormai non considerano più pericolosi gli italiani, cioè ormai gli italiani sono stati ridotti nell'angolo. In effetti fra il 15 e il 20 di marzo, come vedremo, c'è una specie di liato, di pausa nella battaglia e la battaglia si concluderà senza azioni risolutive, cioè si accontenteranno i repubblicani di quello che hanno ottenuto anche perché dietro la Littorio e le tre divisioni camicianere o quello che ne rimane ci sono ancora 20.000 uomini italiani pronti a entrare in azione e quindi prudentemente i repubblicani come abbiamo visto si fermeranno. E qua vedete la tipica foto di propaganda, queste sono delle mitragliatrici italiane che sono state conquistate dai repubblicani, foto di prigionieri e questa invece è la foto che vi volevo far vedere. Questo è un camion italiano che è stato catturato dal reparto del campesino, che lo dice, dice catturata al enemigo, la brigada dei shock e il campesino. Ecco, questa è un'immagine della fine del marzo del 1937 e già girano questi camion. Voi immaginatevi l'effetto che faceva un camion del genere, cioè tu vedevi passare delle truppe repubblicane con un camion che era degli italiani e che il campesino, che comincia a diventare un personaggio tipo Panciovilla, un personaggio famoso, andava in giro. E qua vedete anche una tankette, una CV35, che è stata catturata dai repubblicani. I repubblicani li distingui dalle forze del CTV, non tanto perché hanno delle divise peggio messe, perché in realtà in quelle condizioni erano tutti piuttosto stracciati, ma per le facce, hanno queste facce molto rivoluzionarie che poi diventeranno di moda negli anni 70 sulle magliette di Ceghevano. Viene completamente riordinato il CTV, le tre divisioni camice nere diventano due, poi come abbiamo detto vengono create le flecias, che sono questi reparti misti, e poi vengono schierate, per esempio la brigata 23 marzo, che già era presente nelle riserve di Guadalara, diventa una divisione. Insomma ci sono dei cambiamenti, tanto per cominciare di tipo organizzativo. L'aviazione legionaria diventa sempre più efficiente e lavora di conserva con la legione Condor, che è l'equivalente tedesco dell'aviazione legionaria. Quindi dopo Guadalajara il dominio dell'aria progressivamente passa alla causa nazionale. Cambia molto da un punto di vista anche della linea di comando, nel senso che dopo Guadalajara gli italiani agiscono sempre con un comandante spagnolo, cioè chi decide è sempre uno spagnolo. Non so se questo dipende dalla brutta figura, io non credo, credo che dipenda da questioni di carattere politico e da quei rapporti sempre non espliciti e sempre non felicemente amicali che ci sono fra Mussolini e Franco. Fatto si è che il CTV, pur essendo un reparto autonomo, riceve sempre ordini da un comandante supremo spagnolo. E questo traendo esempio bizzarramente da una cosa che succede nella Prima Guerra Mondiale, cioè dalle divisioni americane di Pershing. In Europa fino alla cosiddetta battaglia dei Cento Giorni le divisioni americane non combattevano con un comandante americano, ma dovevano obbedire agli ordini di carattere strategico che provenivano da un comandante francese o da un comandante inglese, cioè non erano minimamente autonomi. Nonostante che a un certo punto gli americani siano circa due milioni. Nonostante questo fino a San Michiel e dopo loro sono sottomessi diciamo così a un comando non loro. Gli italiani fanno la stessa cosa, cioè prima di tutto creano queste fleccias in cui gli ufficiali sono italiani di solito e i soldati sono spagnoli. E in più i reparti del CTV non hanno una loro autonomia operativa. Nonostante questo vengono affidate nel corso delle campagne successive, vengono affidate proprio al CTV alcune azioni importanti. La presa di Santander che è probabilmente l'azione più importante che gli italiani portino a fine, poi il CTV viene spostato in Catalogna, c'è la battaglia di Bayona e alla fine quando si conclude la guerra con la vittoria nazionale il CTV è uno dei reparti che sono stati più utilizzati. Ha cambiato spesso e volentieri l'ordine di battaglia, cioè i reparti sono venuti, altri sono andati e in Italia c'è stata una campagna di reclutamento che sempre più punta sui militari, sui volontari militari piuttosto che sui volontari della milizia. Vorrei dire anche una cosa, la guerra di Spagna alla fine, questi cambiamenti avvengono, come dire, vengono trasportati pari pari nelle strutture anche mentali, non solo gerarchiche e organizzative dell'esercito italiano. La guerra di Spagna e la guerra d'Etiopia si concludono con due vittorie nel 36 e nel 39 e sono forse la cosa che danneggia di più le forze armate italiane alla vigilia della seconda guerra mondiale. Mi date cinque minuti per chiarire questo concetto? Perché penso sia un concetto, spero sia un concetto interessante. Nel 1938 a Mussolini viene presentata una relazione sullo stato delle forze armate. Questa relazione dice chiaramente che fino al 1942-43 l'Italia non sarà in grado di allinearsi, da un punto di vista tecnologico soprattutto, con le maggiori potenze e con i potenziali avversari, in particolar modo si parla dell'Inghilterra. Se voi ci fate caso, nel 1942-43 l'Italia mette in linea delle armi finalmente all'altezza. Soprattutto nel campo dell'aviazione, gli italiani che hanno sempre subito la superiorità dell'aviazione britannica, mettono in linea la cosiddetta serie 5, cioè il Fiat G55, il Re 2005, i Castoldi, che sono dei capolavori di ingegneria aerea e che finalmente volano veloci come e più della caccia nemica e sono finalmente armati come la caccia nemica. Perché il Machi 202 è un bellissimo aereo, anche esteticamente, ma ha due mitragliatrici soltanto e oltretutto due mitragliatrici da 12,7 per cui può imbarcare un munizionamento abbastanza ridotto. L'Hurrican e lo Spitfire hanno otto mitragliatrici da 7,7 oppure i cannoni in spano suisa, cioè sono molto più armati, sono più veloci, sono anche più maneggevoli. Ecco, l'Italia mette in linea, si mette in pari, diciamo così, con la transizione d'arma di tutto il resto dell'Europa nel 1942-43, perché quella era la data in cui avrebbe potuto e dovuto entrare in guerra. Mussolini, che non era così sconsiderato come viene dipinto, in guerra nel 1940 e prima ancora nel 1939, ma non ci sarebbe entrato mai, è stato costretto da ragioni di real politica a entrare in guerra, ma lui lo sapeva benissimo di essere preparato. Lasciate perdere i proclami, un conto è la propaganda politica e un conto è quello che uno pensa davvero. Pensate ai carri armati, cioè noi commettiamo lo stesso errore, secondo voi, che avevamo commesso nella guerra di Spagna nella seconda guerra mondiale, cioè quello di affrontare i carri, i mezzi corazzati avversari con dei mezzi enormemente meno corazzati e con delle armi offensive enormemente inferiori, come era nel caso del CV35 rispetto al T26 russo. Ma voi davvero pensate che fossero tutti cretini nel comando supremo italiano? Il problema è che noi non avevamo l'industria e la tecnologia per mettere in linea dei carri da 20 tonnellate e allora abbiamo dovuto mettere in linea quello che avevamo, cioè l'M13 e l'M14 che erano dei carri anche antiquati tecnologicamente, erano rivettati anziché essere saldati. Il carro rivettato se veniva colpito e non perforato da un pezzo contro carro, poteva capitare che la botta trasformasse i rivetti in proiettili verso l'interno, è successo, cioè non è che gli italiani fossero masochisti, è che non ce li avevano. Per cui la guerra di Spagna ha rappresentato per l'esercito italiano un ulteriore logorio, vi ricordo appunto che è durata fino al 39, un ulteriore logorio, aveva già avuto la guerra d'Etiopia, ha avuto la guerra di Spagna, uno dice beh però si sono fatti le ossa, si sono fatti le ossa però il loro potenziale militare è crollato e questa è una delle ragioni per cui l'Italia è entrata in guerra assolutamente con una sottodotazione per tutto quello che riguardava gli aspetti diciamo tecnologici. Voglio aggiungere un'altra cosa, che la campagna pirata, pirata nel senso che non battevano la bandiera italiana, molto efficace di sbarramento delle coste che i sommergibili italiani hanno fatto durante la guerra di Spagna, ha creato, già la marina sapete che era l'arma meno affidabile per il regime, ha creato negli italiani l'illusione che quella classe di sommergibili, cioè i sommergibili mediterranei, fossero un'arma efficace, quando invece la guerra ha dimostrato che erano i sommergibili oceanici come il nostro Tazzoli, ma noi ne avevamo pochi, l'arma veramente efficace e questo ancora per l'esperienza della guerra di Spagna. Aggiungo un altro elemento sempre tecnico, la guerra di Spagna con l'utilizzo degli SM79, prima degli SM81, poi degli SM79, dei CR32 contro i rata sovietici ci dà l'impressione che la nostra arma aeronautica sia all'altezza e soprattutto crea nei vertici dell'arma aeronautica in cui c'era un dibattito fra i seguaci di due, cioè del bombardamento strategico, e i seguaci per esempio Locatelli che invece puntavano sulla velocità, fa sì che la nostra aviazione d'attacco fosse basata su dei bombardieri veloci, l'SM79 per l'epoca era un bombardiere molto veloce, il trimotore veloce, il bombardiere medio, perché doveva sfuggire da solo alla caccia nemica, quando poi però la caccia nemica volava a 600 km all'ora, ecco che i nostri bombardieri avevano comunque bisogno della scorta e chi gli faceva la scorta erano i CR32 che non riuscivano neanche a stargli dietro, poi hanno fatto il CR42, ma non è che sia stato questo gran salto di qualità, quindi anche la scelta del bombardamento medio leggero, quando poi la guerra, certo col senno di poi sono bravi tutti, ma quando poi la guerra ha dimostrato che la teoria Harris, che era poi la teoria di due, cioè del bombardamento strategico pesante era l'arma vincente, noi di bombardieri strategici pesanti non ne avevamo, o meglio prevengo il commento di qualcuno, ne avevamo uno, il P-108, che però era un ottimo aereo ma ne abbiamo costruiti pochissimi e che tra le altre cose è costato la pelle a Bruno Mussolini, per cui la guerra di Spagna dà delle informazioni sbagliate, dà delle sensazioni sbagliate e sapete, chi mi conosce sa che io considero la psicologia un elemento importante della guerra e soprattutto logora enormemente un apparato militare che era già logoro, per cui noi arriviamo alla fine della guerra di Spagna così. Hitler si mette d'accordo con Stalin, cioè il mondo si rivalta completamente, cioè con quelli contro cui combattevano in Spagna, si mette d'accordo con Stalin per spartire la Polonia e Mussolini si trova veramente nelle condizioni o di essere isolato da tutto o di seguire Hitler in questa impresa, sapendolo, ripeto, cosciente del fatto di essere impreparato a farlo. Purtroppo poi chi ci è andato di mezzo sono i nostri soldati che, devo dire, sia a Guadalajara che nella seconda guerra mondiale hanno fatto il loro dovere ad abundanzia, diciamo così. Allora, il punto di massima avanzata è questo chilometro 97 della carretera nazionale, che è uno dei punti da cui il CTV aveva mosso l'8 marzo. Lister arriva fino a lì, nel frattempo il CTV arretra, si riordina, come si dice, e viene sostituito da una brigata nazionale. È finita la battaglia di Guadalajara, di cui però noi facciamo adesso un bilancio concreto. Allora, io qui ho segnato alcune riflessioni di carattere generale, su cui non voglio forzarvi, ma su cui mi piacerebbe che poi ci fosse un po' di discussione. Nel senso che sono delle caratteristiche della battaglia di Guadalajara, ma molte di queste caratteristiche sono delle caratteristiche di quasi tutte le battaglie, di cui ci è capitato anche di parlare in questa sede. Allora, la causa strategica della sconfitta di Guadalajara, l'abbiamo già detto, è il fatto che il reparto nazionale di Moscardò praticamente si mantiene assolutamente eccentrico rispetto al punto chiave della battaglia. Il punto chiave della battaglia ruota intorno alla cittadina di Briguega e punta direttamente su Guadalajara. Già lo schieramento della divisione de Soria, cioè della divisione di Moscardò, era piuttosto spostato rispetto a questa direttrice che segue la strada che unisce Saragoza a Madrid. In più, le truppe spagnole rimangono abbastanza fuori e tanto è vero che avranno delle perdite risibili. Su questo, perché poi purtroppo non è che i complottisti ce li siamo inventati adesso, su questo si costruisce tutta una sorta di mitologia negativa per cui Moscardò riceve l'ordine di non intervenire, scusate, interviene ma il meno possibile, per far fare brutta figura agli italiani. Perché Franco si sentiva in una dimensione, come dire, in una situazione di psicologicamente di subordinazione rispetto agli italiani e quindi diceva fateci vedere se siete bravi, vediamo un po' cosa fate voi. Scusate, ma non per uno storico militare, per uno dotato di un pochino di buonsenso, questa è un'idiozia di dimensioni gigantesca. Cioè tu la guerra la fai per vincere, non è che ti tagli gli zebedei per fare rispetto alla moglie. In realtà c'è un errore da parte delle truppe, forse non da parte di Moscardò, ma certamente da parte dello Stato Maggiore Spagnolo, di sottovalutazione, lo stesso errore di partenza che abbiamo detto fa anche il CTV, di sottovalutazione delle risorse repubblicane. Qua all'inizio la divisione de Soria rallenta perché probabilmente, da un punto di vista strategico, temevano di sovrapporsi alla direttrice d'attacco italiana e di creare ancora più confusione. Poi la battaglia si evolve molto rapidamente perché abbiamo visto che fra l'11 e il 15 di marzo, cioè in quattro giorni, lo scenario cambia completamente. Per cui certamente non possiamo dire che la divisione de Soria abbia brillato per interventismo, ma dire che gli spagnoli hanno combattuto poco e male per fare dispetto agli italiani e perché gli italiani perdessero, gli spagnoli sono loro che hanno chiesto l'offensiva di Guadalajara e loro volevano arrivare a Madrid, che vi ricordo era la loro capitale, per cui assumeva un valore simbolico molto forte, pensare che appositamente questi le prendano o stiano fuori dalla battaglia perché così il CTV fa una figuraccia, a me sembra veramente una cretinata. La causa logistica, l'abbiamo detto, gli aeroporti nazionali erano lontani e con piste in terra, questo limitò enormemente l'utilizzo dell'aviazione legionaria, l'aviazione legionaria che altrimenti sarebbe stata vincente, soprattutto nel campo fondamentale in questo caso dei velivoli da bombardamento che praticamente i repubblicani non avevano, per il bombardamento spesso utilizzavano dei caccia in funzione di bombardieri. Una causa psicologica, abbiamo parlato del victory disease, cioè che dopo la presa di Malaga molto facile, quindi una facile vittoria, gli italiani avessero sottovalutato colpevolmente l'avversario che avevano di fronte, soprattutto non tenendo conto del fatto, non so se vi ricordate la cartina che abbiamo visto all'inizio della battaglia di Malaga, non tenendo conto del fatto che Malaga non aveva nessuna via di rifornimento, era circondata e quindi quello che era lì, era lì, mentre nella battaglia di Guadalajara dal nord arriva un'imponente massa di repubblicani a difesa di Guadalajara che nel caso di Malaga non avrebbe potuto intervenire. Una causa tecnica, i T26 erano molto superiori alle tanchette italiane, ce l'ho messo perché nel racconto di Guadalajara questo è un elemento che viene sottolineato molto. Ripeto, la mia personale impressione è che più che una superiorità che è evidente dei T26 sulle tanchette italiane, ha contato il fatto che molta dell'artiglieria del CTV non è stata potuta portare in prima linea, in funzione contro carri, per l'impraticabilità del terreno. Quindi di nuovo sostengo che l'aspetto meteorologico sia stato un aspetto molto importante della battaglia. Una causa addestrativa, le truppe del CTV non erano delle truppe particolarmente addestrate, questo perché le divisioni camice nere, oltre ad essere divisioni volontarie, erano divisioni formate dalla milizia volontaria di sicurezza nazionale, che faceva delle esercitazioni militari, ma faceva quelle esercitazioni che si chiamano in ordine chiuso, attenti riposo, dietro front, avanti marchi, fianco d'est, cioè non faceva delle esercitazioni che simulassero la battaglia. E in più gli unici che avevano una reale esperienza bellica erano i comandanti, comandanti che erano spesso super decorati dalla prima guerra mondiale e che erano certamente all'altezza della situazione. Non solo barba elettrica, ma anche giù giù i comandanti di battaglione, di compagnia, era gente che aveva una buona preparazione militare, ma le truppe erano truppe indubbiamente, il termine che si usa è di poca qualità, a me non piace perché poveretti loro il loro dovere lo hanno fatto, però se tu non hai un certo addestramento puoi avere tutta la buona volontà del mondo che le vai a prendere. I repubblicani avevano spesso alle spalle un'esperienza guerrigliera, le brigate internazionali, questo li ha aiutati molto perché vi ricordo che gran parte della battaglia si svolge in un territorio boscoso, cioè noi quando vediamo la cartina vediamo la cartina piatta, ma qui stiamo parlando di un territorio collinare e di un territorio coperto allora di boschi, ora molto meno. Una causa quantitativa, allora mentre le truppe che venivano schierate dal CTV erano delle truppe a esaurimento, le truppe repubblicane invece andavano crescendo, quindi non soltanto c'era questo effetto diciamo dell'onda di marea che arriva, si ferma e torna indietro, ma c'era anche l'effetto di una controonda che era sempre più forte e che cresceva sempre di più. Stiamo parlando comunque di numeri molto piccoli rispetto alle battaglie della prima guerra mondiale, ma sempre e comunque di numeri consistenti, dell'ordine di decine di migliaia di soldati, per cui insomma la cosa è andata via abbastanza. E adesso veniamo alle perdite, allora le perdite ufficiali, cioè le perdite che risultano dai ruolini della battaglia di Guadalara per gli italiani è stata di 400 morti, 1800 feriti e 500 predispersi dispersi e prigionieri. Calcoliamo pure che un terzo di questi 500 siano in realtà morti e non siano stati recuperati sul campo di battaglia, gli altri sono circa 350 prigionieri di cui un grosso blocco sono quei 200 e tanti prigionieri del palazio dei Barra. I numeri che compaiono su Wikipedia, potete andare a controllare se non mi credete, sono 3000 morti, che è una cifra folle, 4000 feriti, 800 prigionieri e 200 dispersi. Cioè sostanzialmente metà delle truppe che hanno attaccato a Guadalara risulterebbero morti, feriti, dispersi e prigionieri, che è pura follia. In realtà soltanto una percentuale abbastanza ridotta del CTV è entrata effettivamente nel combattimento. La maggior parte degli sconfitti del CTV sono stati sconfitti senza combattere perché sono stati inglobati in quel caos logistico che vi dicevo e si sono ritirati prima ancora di entrare in contatto. È stata una battaglia sanguinosa, è stata una sconfitta pesante. Insomma non conto dire che tu hai avuto 400 morti e un conto dire che tu ne hai avuti 3000. Per cui io ho concluso con questa immagine che non c'entra con la battaglia di Guadalara. Questa è la vaia dello Scaidos. La vaia dello Scaidos, sormontata da questa croce alta 150 metri che si vede da una distanza enorme, è un posto veramente emozionante. Se non vi è mai capitato e andate a Madrid per un viaggio turistico, all'Escorial che è vicino a Madrid c'è questa vaia dello Scaidos che è un posto oltre a essere un posto molto bello perché uno la Spagna se la immagina un po' molto mediterranea, lì ci sono invece i pini insomma e soprattutto c'è questa cattedrale ipogea con il cimitero che è stato definito la più grande fossa comune del mondo e c'è la cattedrale ipogea dove c'erano allora, quando ci sono andato io, le tombe di José Antonio e di Francisco Franco. E la caratteristica, credo lo sappiate, della vaia dello Scaidos è che non ci sono sepolti soltanto i nazionali, ci sono sepolti anche i repubblicani. Cioè per noi italiani che ancora oggi, a me mi piace ogni volta doverlo dire, dobbiamo vivere questa divisione feroce, questa guerra civile che non vuole mai finire, è un esempio di come si affronta civilmente una guerra civile che ha fatto un milione di morti, non come la nostra, una guerra civile enorme, spaventosa, che ha visto delle crudeltà terrificanti, non si prendevano prigionieri più delle volte, poi dopodiché Francisco Franco, bestemmiato dittatore di cui adesso hanno tolto perfino la barra dalla basilica dello Scaidos, Francisco Franco fa fare la vaia dello Scaidos per tutti i morti. A me sembra una grande lezione e mi sembra, come dire, al di là del parce sepulto, che insomma mi sembra che sia, ho voluto mettere lì perché mi sembra la conclusione migliore per parlare di questa battaglia di Guadalajara, perché, mi riallaccio a quello che dicevi tu all'inizio, perché questa è la realtà, questa è l'umanità della guerra di Spagna, non le opposte mitologie che ne sono venute fuori. Ecco, recuperiamo un pezzetto alla volta, credo sia encomiabile quello che fate voi qui a Domus Arobica perché è esattamente quello, volevo dirlo all'inizio ma mi sembrava una captatio benevolentie, cioè voi con pochi mezzi fate un lavoro veramente egregio e quindi ve ne do atto e avete il mio applauso sincero. Dicevo, la storia, adesso io sono un pessimo storico, però la storia andrebbe fatta lasciando la mitologia da un'altra parte e quelli che speculano dicendo che gli italiani a Guadalajara hanno avuto un rovescio, che hanno perso 3.000 morti, non solo non fanno un buon servizio alla storia, ma non fanno un buon servizio all'umanità. Perché se la storia non ci insegna a essere un pochino più umani, io lo dico sempre e chiudo anche oggi così, vuol dire che la storia non serve a niente. Se la storia è solo propaganda, è una clava da usare, allora io cambio mestiere, vado a fare qualcos'altro. L'unica cosa che so fare purtroppo è questa. Preparo anche una discreta polenta, però al di là di questo. Vi ringrazio. Grazie. 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 Grazie.